Ups a tutti, cari Upsi e Upsi, come state? Spero veramente bene, dai. Prima di iniziare vorrei subito dire una cosa, così ho proprio la vostra attenzione, subito, subito, subito. Fate attenzione, questo video non è stato per niente preparato e vorrei fosse il più spontaneo possibile, vorrei fosse un video che voi ascoltate per tenervi compagnia. Vorrei proprio tenervi compagnia adesso, magari state passando un periodo un po' più brutto, oppure non avete nulla da fare e volete vedere questo video. Perciò oggi parlerò un po', ok, parentesi chiesa. Come ho detto oggi parlerò un po' del mio compleanno e di altre cosette in aria. Quindi, mi raccomando, mi raccomando, indosso un paio di cuffiette, oppure di cuffie grandi, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Ok, 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 allora, il titolo di questo video, come avrete visto, ricorda appunto il mio compleanno. Perché sì, a breve, cioè, da breve, 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 breve tempo, da poco tempo è stato il mio compleanno. In realtà voi questo video lo vedrete due settimane dopo il mio compleanno, quindi è un po' tardi, però, perché non potevo farlo prima. Il mio compleanno, per chi non lo sapesse, è stato il 30 gennaio, quindi sì, appunto, due settimane fa, in realtà, per voi che vedrete questo video. E ho compiuto 17 anni, lo so, sembro più grande, me lo dicono tutti, invece no. E ho compiuto 17 anni, non ho fatto una vera e propria festa con i miei amici, ma ci siamo comunque visti. Anche perché con le mie due miglior amiche mi vedo tutte le settimane, quindi, vabbè, diciamo che adesso, appunto, devo iniziare a capire cosa voglio fare. Hai 18 anni, e lì vorrei fare una festa un po' più grande, ecco, mi sa, guardi l'emozione, eh, vabbè, sai. Allora, sono qui per parlarvi un po' appunto dei regali che ho ricevuto. Primo tra tutti, questo è il mio telefono che già avevo. La mia sorella mi ha regalato questa cover, la vedete, ok, che ho scelto io, però, perché era da tempo, da tanto, tanto, tanto tempo, che mi compariva, e mi compare tuttora, su TikTok in particolare. La pubblicità di questo sito per cover, che si chiama Burga, e quindi, visto che le cover che avevano, mi piacevano tantissimo. Ho detto, perché non prenderla, per quanto appunto però posso dirvi che sono un pochino care, ok, scusate, sono un pochino care, però io ho speso e spendo sempre un sacco di soldi per mia sorella, quindi pure lei può iniziare a spenderli. E niente, dai, quindi, la cover come regalo l'ho avuto da parte di mia sorella, e mi è piaciuta tantissimo. Poi, da parte dei miei genitori, invece, Just Dance 2022 per la Switch, perché i regali, diciamo, per non fare in modo che mi venga regalato qualcosa che non utilizzerei, diciamo, li scelgo sempre io, e poi loro li comprano soltanto. Ma poi, nel caso io ho bisogno di qualcosa in un diverso periodo dell'anno, i miei genitori me la prendono senza problemi, quindi, diciamo, alla fine loro fanno dei regali tutto l'anno, ecco. Poi, dalle mie amiche, diciamo, mi sono fatte regalare, allora, dietro le mie amiche, questo libro per imparare il coreano, perché io sono super fan del coreano, e, diciamo, ho iniziato un po' a farlo, mi sono messo a fare un po' di appunti su questo quaderno qua. Io ci vediamo, tipo, così, per farlo vedere. Per adesso, ancora, nelle prime unità ti fado tutta la pappardella sull'alfabeto, che io, in realtà, un bel po' già conosco. E niente, 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 questo così, sempre dalle mie amiche, però da un'altra, questa, mi hanno regalato questo set di candele. Spero si veda, perché è veramente grande, veramente, veramente, bello, mi è piaciuto tantissimo. Vedo di aprirvelo. Vi faccio vedere, all'interno ci sono quattro diverse candele fatte così. Vi faccio veramente belle come decorazione esterna. E questa in particolare che ho preso... Ok, era alla vanicchia, buonissima. E poi ce n'erano altre tre, con la scatolina verde per il gelsomino, nero per la lavanda e azzurro per tipo l'orchitea, mi sembra. Ovviamente io amo le candele, quindi è stato molto apprezzato. Spero che la luce sia a fuoco, guardandomi dallo schermino dietro, sembra tutto a posto, speriamo. Poi, qualche altro regalino che mi hanno fatto. Allora che posso mostrarvi ne ho ancora uno, perché adesso vi spiego. Mi hanno fatto questo regalino qua, adesso vi spiego cos'è. Praticamente è un caricatore per o quattro joystick della Nintendo Switch, oppure due joystick e il controller, quello però ufficiale che devi prendere a parte. Perché però adesso non posso più mostrarvi dei regali, più o meno. Perché io adesso vi dirò dei regali che ho ricevuto, che però, questa cosa vi dico, un segreto, in realtà non ho ancora ricevuto, ma che riceverò tra poche ore, diciamo. Perché mi vedo con i parenti che appunto facciamo la vestigio alla tra di noi, solo che io so cosa mi regalano, quindi ve lo dico. Mi regaleranno due nuovi joystick per la Nintendo Switch e le colorazioni sono quelli di Animal Crossing, bellissimi. Quel verde pastello e azzurro pastello, scusate. Bellissimo, per quello ho questo caricatore da quattro. E poi è un altro gioco, ovvero Kirby e la terra perduta. Poi controlliamo se vi ho detto tutto. Poi mi volevo fare un autoregalo, ovvero un piercing, ma è un mese che sto cercando di prenotare e non mi fanno prenotare. Perché la prima volta che ho chiamato mi hanno detto, giustamente, non posso prenotare con te perché sei un minorenne. Vieni in negozio con un genitore e io fin qua lo sapevo. Sono andato la prima volta ma era chiuso, ma su internet diceva che era aperto e invece era chiuso. Sono andato una seconda volta e era aperto, sono andato con mio padre, abbiamo parlato con questo ragazzo che c'era. Ma il piercing, il piercer era disponibile solo il giovedì mattina e il giovedì mattina sono a scuola e i miei genitori a lavoro. Per fare un piercing col minorenne serve almeno un genitore. Quindi ho dovuto aspettare due settimane perché mi aveva chiesto di aspettare due settimane perché si stava già regolando col piercer per cambiare giorno. Io ho aspettato due settimane, ho chiamato ma il piercing non ha ancora scambiato giorno. Perciò aspetterò ancora una settimana come mi ha detto il Dio ragazzo e mi dicono no, guarda non è ancora disponibile, vado da un'altra parte. Ok, provate a indovinare qua sotto che piercing voglio fare e riguarda tutta la faccia, cioè la zona che avete è dal collo in su. Io non faccio tipo il termo ma l'ho altre cose, sono piercing dal collo in giù, uno solo eh. Ok, ok, ok. Poi dobbiamo sbrigarci. Ieri sono uscito con i miei amici a Torino e tipo ho comprato due cosette che ve lo farò vedere. Questo tipo piccola bustina con 10 tratto pen che ho pagato un fottio in realtà però nessuno lo saprà mai. Perché sono andato in un negozio che aveva tipo tutte queste cose in realtà giapponesi con anche sotto scritte le cose giapponese. e i prezzi tipo in yen, non in euro e non ho voluto fare la conversione quindi in realtà sono arrivato in casa e tipo mi ha detto quant'era e faccio tipo c'è sumo e tantissimo però vabbè non è che gli dico in cassa, no, non lo prendo perché costa troppo. e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè un'ultima cosa diciamo che ho preso e che penso userò tantissimo in futuro appunto per il canale ho presa Questa pasta modellabile con le berline, provo a prenderne una. Vediamo, sentite, stupendo, non sono stupendo. Stupendo, stupendissima. Ce ne sono di cinque colori. Ce ne sono di cinque, uno, uno, due, 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 tre, quattro, cinque, cinque colori. E la vedrete nei prossimi video. Un'ultima cosa che faccio in tempo a farvi vedere è un acquisto in realtà vecchio che ho fatto ma mi sa che non vi ho mai fatto vedere. Ovvero questo cuscino, è un cuscino di velluto bianco, tutto, tutto peloso. Ma fa un suono perché dentro ho ancora tipo la plastica. Ma io non l'ho tolta perché mi piace troppo il suono che fa. E quindi l'ho lasciata. Avrei voluto parlarvi di altro ma purtroppo il nostro tempo è finito. Spero di avervi tenuto compagnia, questi 20 minuti sono volati per me. Perciò, cucù, 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 adesso tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo o nuova qui. Per entrare a far parte della OOPS community e diventare un OOPSino se sei un maschietto e un OOPSino se sei una pioggia. Poi lascia un bel mi piace e un bel commento. Mi fa sempre piacere ricevere i vostri commenti, perciò fatelo, 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 fatelo. Il video di oggi poi finisce qui. È stato un po' diverso dal solito, molto spontaneo. E ho parlato tanto. Quindi io adesso però ti lascio di qua il mio video precedente. Di qua ho la mia playlist proprio qua sotto di te, sotto di me, pardon. Il tasto per andare sul mio canale e vedere qualsiasi video tu farrai. Spero proprio che questo video ti sia piaciuto. Punto per esserti da compagnia. Lo metti come sottofondo, magari vai qualcos'altro. Intanto ascolti la mia voce. Questo è. Ti devo salutare. Ti do un bel bacio. E ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. 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 Grazie.